le ferrovie dello stato si riorganizzano per migliorare i servizi al passeggero dare più impulso al trasporto merci rendere più moderna la rete per questo oggi diventiamo quattro strutture specializzate sotto un'unica regina stiamo lavorando per farvi sentire sempre più vicino le ferrovie dello stato riorganizzazione delle ferrovie dello stato ci facciamo in quattro per voi